Gli ammortizzatori però sono nati un po' a puttane E secondo te perché li fanno gli ammortizzatori? Eh infatti l'abbiamo X e io non posso farlo Dammi il tablet Oh se l'ho fatto da di pro Ma no ma registra 36 secondi Ah vabbè faccio parte 1 parte 2 No ma l'ho interrotto varie volte poi gli mi metto una parte No non riesco ad unire Li metto tutti Parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 Vai ste Tanto tu c'hai gli ammortizzatori non ti fai un cazzo Sono io che senza ammortizzatori mi ammazzo Grande Oh che è che mi registra mentre faccio delle curve alla Valentino Rossi Ce l'ho fatta Pimbo io per te nati Vai Pimbo No ma io non faccio le scale mi ammazzo Non c'ho gli ammortizzatori mi ammazzo Me lo devi tenere che faccio delle curve Però vieni in fondo In fondo devo farli tutto Prima faccio Inquadrami che faccio il tombino Il tombino? Oh Gio ci sono i tuoi gatti Ci sono i tuoi guanti Raga arrivano altri amici Sì stiamo registrando Che c***o di merda me la sacca me l'hanno rubata Tei guanti no Hai carta? Sì la sacca me l'hanno rubata L'ho dimenticata i cerchi non l'ho più trovata E io l'ho lasciato i cerchi me l'hanno rubata Ma c'è il... Attenzione Francesca Due giorni fa stiamo registrando un video Quanto? Stiamo registrando un video noi